33 anni come sacerdote nella diocesi di Arezzo Cortone a Sansepolcro, 10 come vescovo in quella di Grosseto. Adesso Monsignor Franco Agostinelli è il nuovo vescovo della diocesi di Prato. Nato ad Arezzo il 1 gennaio del 1944, dopo gli studi presso il seminario di Arezzo, è stato ordinato sacerdote il 9 giugno 1968 dall'allora vescovo di Arezzo Monsignor Telesforo Giovanni Cioli nella parrocchia retina di San Marco alla Sella. Conseguita la laurea in teologia alla Pontificia Università Lateranense, ha continuato gli studi presso l'Accademia Alfonsiana. Ha esercitato il ministero sacerdotale nella diocesi di Arezzo, prima come vicario coadiutore della cattedrale e poi come parroco della popolosa comunità del Sacro Cuore. Proprio ad alcuni giovani della parrocchia di zona Giotto, alla fine degli anni 70, nasce l'esperienza dell'associazione Rondine Cittadella della Pace, che il presule ha contribuito a creare insieme al fondatore Franco Vaccari. Nel 1984 viene nominato vicario episcopale della pastorale e direttore dell'ufficio catechistico. Rettore del seminario vescovile dal 1992 al 1994, nel 1997 è stato poi nominato vicario generale della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro e confermato nell'ufficio nel 1999 dal nuovo vescovo Gualtiero Bassetti. Nel novembre del 2001 è stato nominato vescovo di Grosseto, ricevendo il 6 gennaio 2002 la consacrazione episcopale per l'imposizione delle mani di Giovanni Paolo II. Nei dieci anni di episcopato a Grosseto, Agostinelli è stato apprezzato per la sua vicinanza alla vita sociale e al mondo del lavoro. Negli anni ha dato vita ad un fondo di solidarietà diocesano e ha aperto numerosi centri pastorali. Nel 2009 ha indetto il sinodo diocesano per dare nuovi impulsi e stimoli alla Chiesa Maremmana. Agostinelli è inoltre delegato della Conferenza Episcopale Toscana per i Migranti e correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.